questo è uno degli interventi che seguo con più attenzione perché qua ci fece il militare nel 95 è una zona piazza firenze nord milano da seguire perché ci sono parecchi problemi sapere che entro tre anni da qua usciranno le volanti dalla polizia di stato per tutta milano dormiranno mille cento poliziotti durante il giorno ci saranno più di duemila donne e uomini della polizia di stato significa un passo in avanti per tutto il quartiere e significa sempre fra tre anni avere più studenti in centro per l'università cattolica quindi sto seguendo con particolare attenzione i lavori tutto procede la bonifica è stata fatta conto che entro la fine dell'estate comincino i lavori c'è il solito ricorso al tar che spero si pronunci rapidamente quindi ci diamo appuntamento fra un annetto per verificare che tutto stia procedendo però questo per milano è un grandissimo intervento che che sto seguendo personalmente